Sarà il medico legale Cataldo Raffino dell'Istituto di Medicina Legale di Catania ad eseguire nel pomeriggio di oggi l'autopsia sui corpi di Maria Sofia e di Gaia le due sorelline di 9 e 7 anni che frequentavano l'Istituto Sor Teresa Valsè di Machitella uccise ieri dalla madre Giuseppa Savatta di 41 anni nella propria abitazione di Via Passaniti nel centro storico di Gela. Il medico dovrà stabilire in particolare se le bambine sono decedute per avvelenamento essendo state costrette dalla madre a bere candeggina o per soffocamento considerato che sulla gola delle piccine sono stati riscontrati segni di un'energica pressione, quasi uno strangolamento. La donna avrebbe poi tentato il suicidio ingerendo della candeggina e tentando di impiccarsi col tubo flessibile della doccia dove il marito Vincenzo Trenito di 48 anni, ingegnere, docente presso l'Istituto per Geometri Ettore Maiorana l'ha trovata alla sua rientra a casa riuscendo poi a bloccarla mentre si dirigeva verso il balcone col proposito di buttarsi giù. Giuseppa Savatta è in stato di arresto con l'accusa di duplice omicidio aggravato dall'averlo commesso sui discendenti. La donna si trova ancora piantonata in ospedale per aver tentato di ingerire qualche sorso di candeggina. Fatemi morire sono le prime parole che Giuseppa Savatta ha detto ai medici che la soccorrevano in ospedale ieri subito dopo la scoperta del duplice infanticidio e del tentativo di suicidio della stessa donna. Poi quasi a giustificare il suo folle gesto ha raccontato alla psichiatra che la visitava che l'ho fatto per il bene delle mie figlie per non farle soffrire. Era certa che il marito l'avrebbe lasciata a conclusione di un rapporto di coppia assai difficile. Ma il marito, pur ammettendo l'esistenza di dissidi familiari, avrebbe detto che una rottura netta con la moglie non era nelle sue intenzioni, anche se più volte minacciata nei momenti d'ira. Intanto, dalle indagini coordinate personalmente dal procuratore Fernando Asaro e condotte dai carabinieri, emerge che la donna, insegnante di sostegno alla Ettore Romagnoli, con incarico a tempo determinato di sei ore settimanali, era sempre precisa, puntuale, seria. Qualche alterco c'era invece all'interno della coppia, poiché il marito insisteva affinché la donna, colpita dalla scomparsa del padre, suicidatosi nel 2008, consultasse qualche medico. C'erano, ha detto il marito e gli inquirenti, delle discussioni, ma non l'avrei mai lasciata, non avrei mai potuto prevedere quanto è accaduto. Grazie! Grazie!